A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Domani nella notte al mattino nuvolosità estesa con residui e precipitazioni in giornata ampie schierite e ingresso del vento da nord. Favogno nelle valli e in area pedemontana. Foschia e nebbie sulla pianura in serata. Temperature senza variazioni con massime previste tra 14 e 17 gradi. Grazie per la visione!